Io confesso che sinceramente non ci sto capendo niente di sta prana, veramente non ci sto capendo niente, non so della realtà cosa stia accadendo, anche perché ho provato ad andare là, però non capisco nulla, potete chiedermi qualche preghiera ma io non capisco nient'altro. Io ho lasciato il messaggio e vorrei ribadirlo, anche questa sera dobbiamo evitare che magari può essere che chi è a favore e chi è contro a questa fase, no 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 perché quello che bisogna lavorare in questo momento è sull'unità, il problema è di tutti, non è della maggioranza o della minoranza. Per cui il problema che si è creando è che magari se qualcuno non è potuto venire da parte della maggioranza o chi per esso può essere magari, evitiamo lo scontro, perché altrimenti rischieremo, esatto, evitiamo lo scontro, perché è stato ribadito più di una volta, non si può neanche scavalcare il sindaco. Naturalmente è indifferente chi non l'ha votato, è comunque il sindaco che è riconosciuto come autorità, noi non bisogna fare una rivoluzione, siamo in un paese democratico. E quindi ecco perché io vorrei far capire per chiunque esso sia comunque il sindaco, ok? E Vito l'ha ben evidenziato, bisogna magari richiamare una certa responsabilità, è giusto che dei cittadini facciano sentire la loro voce, io questa sera volutamente sono stato presente anche per ascoltare, perché realmente voglio capire cosa sta accadendo. Forse c'è un certo panico tra le persone, c'è un certo timore, non nascondo che pure io ho un po' di timore, perché il futuro di Roscigno lo vedo un po' in difficoltà, con qualcuno forse ho confidato, ho un po' paura perché semplicemente anche, non solo per la strada per il sacco, non so il futuro quale sarà, se si rialterrà, non si rialterrà, ancora peggio per la provincia. E collega col corretto. Praticamente chi vuole venire a Roscigno ci deve venire a posto. E questo modifica un assetto sociale, immaginate che quella era una strada di collegamento, di passaggio, modifica anche, non lo so, modificherà qualcosa che forse non ce ne accorgiamo fino in questo momento, da ora in poi, non ce ne riusciamo ad accorgere. Quello che voglio dire, lavoriamo noi, dobbiamo essere una comunità, far sentire la voce è anche giusto, è bene che ci si svegli anche in questo, perché parlare sotto sotto non serve, parlare alle spalle non serve, accusare gli altri non serve. Richiamare ciascuno la propria responsabilità, sì. Don Nicolo, voi dovete fare questo, va bene, basta che mi si dica. Lo stesso anche chi deve avere le sue responsabilità. Quindi io appoggio pieno Vito, cioè lui l'ha detto bene, dobbiamo scrivere, c'è il sindaco, chiediamo anche questo, magari forse, magari lui, non lo so, avrà i suoi motivi per non aver accettato di ospitare nella sala, non lo so, non si sa, io non saprei neanche, non sapevo neanche che. Non si sapevo neanche responsabilità, ma non è un problema nostro in questo momento. È bene che si dica, però bisogna evitare lo scontro, perché se ne si rischia che magari potrebbe uno immaginare che la minoranza possa cavalcare la situazione e quindi dall'altra parte c'è la reazione e quindi dica di no, risponda con no. E allora questo scontro non va bene, questo scontro non va assolutamente bene. Non si è messo con una cosa. No, va bene, lo so, però purtroppo in questo momento, in questo momento, tensioni, persone che magari amano seminare zizzania, una serie di pregiudizi, luoghi comuni, portano anche a questo. Quindi magari bisogna lavorare insieme, bisogna lavorare insieme, far sentire la voce del giusto e soprattutto rafforzare la comunità. La frana non è di uno, è di un altro, il problema ha colpito tutti. Disgraziatamente alcune persone hanno perso qualcosa, molti avranno perso dei ricordi, molti avranno perso qualcosa di più caro, però è una cosa che dovrà sentire colpita tutti quanti. Anche a me, Don Nicola, che non appartengo per niente a Roscigno. Non ho nulla a che fare con Roscigno, a livello di appartenere al territorio, però sono qui presente da tanti anni, sono vostro pastore, in certo qual modo mi sono affezionato alla vostra comunità. Spero di essere stato chiaro, però veramente bisogna lavorare insieme, lavoriamo insieme, perché sennò rischiamo di disgregare ancora di più la comunità. E soprattutto magari non sempre ognuno può trovare anche dinanzi a una difficoltà. Io e Don Nicola sono pure giovani, potrei essere inesperto, potrei anche non affrontare bene la situazione. Però a volte un consiglio, a volte anche in maniera, ci sono tanti modi per affrontare, per far capire qualcosa. Perché altrimenti vedete qua ci si arriva sempre allo sconto. Cerchiamo di lavorare insieme, cerchiamo di camminare insieme. Il problema, penso che sia grave, è stato evidenziato di una volta, è grave. Io non ve l'ho detto, non so prendermi ancora a conto di che cos'è. Non potrei neanche dare la colpa a nessuno. Però andiamo avanti così. Grazie.